Sì, domani è una manifestazione per mostrare la coesione di un popolo che cerca di superare un periodo effettivamente tragico come quello che stiamo vivendo. Io invito domani a essere tutti presenti, domani il mattino il municipio sarà chiuso al pubblico come non ci sarà nemmeno il mercato settimanale per poter consentire a tutti quanti di essere presenti a una manifestazione, non solo ai lavoratori ma anche alle mogli, ai figli, ai libri professionisti perché è un'avvertenza che riguarda Gela, questa è l'avvertenza Gela anzi di più, è un'avvertenza di un intero territorio. Infatti verranno i sindaci consiglieri dei comuni limitrofi perché dobbiamo far sentire tutti insieme la voce del nostro territorio che reclama l'attenzione che merita. Una grande manifestazione domani potrà dare una grande forza alla Giunta che mercoledì sarà nuovamente a Roma per trovare quelle soluzioni che il territorio ha bisogno. Quindi domani tutti insieme possiamo dare quella forza che a Roma ancora è quella potenza che il nostro territorio si esprime e che a Roma ancora non hanno sentito.